Il più cordiale e buon venerdì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. È finalizzato al contrasto della violenza di genere il progetto Voci di Donna, a promuoverlo l'osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne del Consiglio regionale della Campania, presuduto da Rosaria Bruno, sette storie vere di donne vittime di violenza domestica e del loro riscatto, raccontate in formato audio da sette attrici. Il progetto a cura di Crea Cinema è disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme podcast e sul sito e canale YouTube di www.stopviolenzadonne.it. La gestione del paziente immunologico al tempo del Covid-19, questo è il tema del webinar, in programma per domani, sabato 13 marzo, a partire dalle 9.30 sulla piattaforma FAD. Responsabili scientifici dell'evento sono i dottori Raffaele Mozzillo, Enrico Tirri e Tito Del Rico. La libreria indipendente che storia di Via Tanucci a Caserta, sempre attenta al mondo dei piccoli lettori, ha organizzato l'iniziativa Il Cibo e le Emozioni. Appuntamento online domenica alle ore 18.00. Sulla pagina Facebook della libreria Che Storia interverranno la psicologa e psicoterapeuta Marina Scappaticci e la biologa nutrizionista Carmen Colonna, nonché la libraia Cinzia Cresci. Simona Giuntini è la voce del decimo evento dei racconti meravigliosi, fiabbe e racconti popolari a cura di Augusto Ferraiolo. Le musiche sono di Luca Rossi. Per ascoltarlo c'è il canale YouTube dei racconti meravigliosi e naturalmente la pagina Facebook. Ed è tutto da Maria Beatrice Cresci, un forte abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo di allawabdv.it